18 voti favorevoli, 11 contrari e un consigliere comunale astenuto. Passa a larga maggioranza il bilancio preventivo del comune di Benevento guidato da Clemente Mastella. Voti utili a blindare l'operato dell'amministrazione uscente anche dai tre componenti del Partito Democratico a Palazzo Mosti, che è da oggi ancora più diviso. Da un lato il gruppo nel comune, con De Pierro, Del Vecchio e Repore, che sostengono il partito, che in consiglio regionale fa parte della stessa coalizione. Di noi campani di Mastella, che appoggiano il presidente De Luca. Dall'altro la segreteria provinciale PD, che ha invece costruito un'altra coalizione con Luigi Diego Perifano, candidato sindaco. Raffaele Del Vecchio spiega le sue ragioni, dopo aver annunciato di non ricandidarsi. Ognuno di noi, se facesse qualche passo indietro, diciamo così, per favorire la rigenerazione della classe dirigente, sarebbe sempre molto meglio. Nel 2020 è cambiato lo scenario. Questa forza politica è venuta a pieno titolo, comprando un biglietto, cioè 102 mila voti. Governiamo insieme con il PD e con noi campani in regione campana e tanti altri. Io credo che sia politicamente assolutamente assurdo che arrivati a Benevento dobbiamo differenziarci. Soddisfatto ovviamente il sindaco Mastella che ringrazia i consiglieri comunali di opposizione che hanno dato un supporto importante. Questo era l'interesse della città e dei cittadini. Significava eventualmente all'un'approvazione, stranamente l'arrivo del commissario di governo, che per 3-4 mesi, fino a quando ci saranno le elezioni, avrebbe gestito ripartendo a capo.